Un saluto a tutti gli ascoltatori di Controradio, grazie Controradio per averci invitati a far parte di questa tribù di musicisti che partecipano da casa. Noi siamo Sinedades, siamo un quartetto italo-argentino, ci siamo ritrovati virtualmente per registrare questo video, in quanto la quarantena vale per tutti. Si tratta di un brano nostro, inedito, che non è ancora stato diffuso su nessun'altra piattaforma, si chiama Tequento Che. Contrame voi, come passò, e tutto cambiò, interruzò, algo danzò, para oir la voce. Contreremo di qualcuno per la città che ti invita a andare a un nuovo rio. Contreremo di un'altra piattaforma, per la città che ti invita a un'altra piattaforma, per la città che ti invita a un'altra piattaforma. Contreremo di un'altra piattaforma, per la città che ti invita a un'altra piattaforma. Contreremo di un'altra piattaforma, per la città che ti invita a un'altra piattaforma, per la città che ti invita a un'altra piattaforma. Contreremo di un'altra piattaforma, per la città che ti invita a un'altra piattaforma. Contreremo di un'altra piattaforma, per la città che ti invita a un'altra piattaforma, per la città che ti invita a un'altra piattaforma. Contreremo di un'altra piattaforma, per la città che ti invita a un'altra piattaforma.